Musica Benvenuti quest'oggi nella rubrica sport per tutti in forma il vicepresidente regionale Fabio Palandri che è anche presidente del Comitato Territoriale della Spezza innanzitutto benvenuto Grazie e buongiorno a tutti è la prima volta qui con noi nei nostri studi naturalmente siamo molto felici di questo anche perché nella relazione proprio dedicata al WISP c'è la regionalizzazione che è uno dei punti forti naturalmente che avete preparato allora partiamo proprio dalla sua città facciamo un po' il punto della situazione su WISP e la Spezza WISP e la Spezza è un comitato che al momento conta circa quasi 9500 soci che è una percentuale diciamo un numero abbastanza importante considerando la dimissione del proprio territorio e tenuto conto che sulla provincia della Spezza c'è anche un altro comitato che è quello del comitato della Val di Magra cerchiamo ormai da parecchi anni attraverso anche un gruppo dirigente che sta crescendo molto giovane stiamo cercando di dare più risposte possibili ai fabbisogni dal punto di vista dell'attività motoria dal punto di vista anche del divertimento, del gioco ma anche non solo anche delle necessità a volte anche legate alla salute delle persone di intercettare il più possibile e dare delle risposte a quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini e credo che questo sia un po' il motivo per cui in questi anni siamo cresciuti abbastanza c'è un po' di tutto diciamo dal calcio, dal palacanestro, dal patinaggio alla ginnastica, la ginnastica dolce per gli anziani al volley, fra poco ci arriveremo arriveremo anche questa è una cosa nuova insomma cerchiamo di veramente di fare attività un po' proprio veramente per tutti dai bambini molto piccoli, piccoli piccoli alle persone anche in età abbastanza avanzate intanto vediamo delle immagini che riguardano lo basket abbiamo scelto queste naturalmente ma ci sono tante discipline anche perché a livello regionale questo è il suo primo anno da vicepresidente anche se ormai da tempo fa parte della direzione generale tra l'altro è un impegno importante con la presidenza anche di Tiziano Pesce avete già iniziato un concreto lavoro effettivo proprio sul campo della regionalizzazione noi ne abbiamo parlato prima sì, innanzitutto devo dire che io appunto da pochi mesi sono vicepresidente regionale e insomma stiamo cercando prima di tutto ho trovato un ambiente meraviglioso che è quello che credo che deve essere sempre il motore di tutto perché quando ti trovi in un ambiente dove stai bene diventa tutto più semplice e non è purtroppo sempre così devo dire che questa è stata la cosa che poi conoscendolo perché ero comunque dirigente a livello regionale ho accettato volentieri di fare il vicepresidente regionale e sì, stiamo cercando di perseguire questo obiettivo dalla regionalizzazione il più possibile di portare a arrivare a livello di regionalizzazione dell'attività e comunque della WISP stiamo cercando di fare in maniera che il comitato regionale sia un vero e proprio motore e anche un collante per quello che sono le realtà territoriali è evidente che poi ci sono possono essere delle differenze, delle peculiarità delle esigenze diverse da quello che può essere il comitato che va dall'estremo levante all'estremo ponente però cerchiamo comunque di condividere obiettivi di condividere, di lavorare più o meno in maniera omogenea e stiamo cercando di fare sistema e crediamo anche che sia molto importante e poi magari questo ci arriveremo magari dopo quando parleremo di pallavolo che i comitati, spesso i comitati territoriali tra di loro si possono e si devono aiutare perché a volte alcune cose le può noi abbiamo ad esempio sulla pallavolo abbiamo avuto il sostegno del comitato di Genova e magari Spezia può sostenere sulla pallacanestro altri comitati fare sistema se ne parla molto dell'economia se ne parla spesso e molto spesso a volte viene mancare voi date il buon esempio noi ci proviamo poi crediamo che sia assolutamente la strada da seguire assolutamente sì allora rimandiamo sulla pallavolo perché insomma c'è stata questa bellissima giornata il Volley Day organizzato da WISP allora vediamo il servizio così raccontiamo un po' che cosa è successo peraltro in un bellissimo impianto vediamo giornata di festa e sport per tutti al Palamariotti della Spezia domenica scorsa Salwisp Volley Day iniziativa organizzata e promossa dal comitato territoriale WISP della Spezia in collaborazione con WISP Liguria e Lega Pallavolo di Genova visto scendere sul parchè del palazzetto dello sport Spezzino tantissimi pallavolisti che hanno disputato incontri amichevoli per tutta la mattinata con questa nuova manifestazione il comitato WISP della Spezia ha ufficializzato l'avvio della stagione sportiva 2013-2014 che novità assoluta vede a calendario la prima edizione dell'amatori misto dopo Genova dunque anche Spezia avrà un campionato di pallavolo amatoriale misto targata WISP testimonianza ulteriore della crescita delle attività WISPine a livello regionale Borgata Marinara Lerici e Cremi Team la formazione più numerosi presenti al WISP Volley Day che al termine della giornata sono state premiate dal presidente del comitato della Spezia e vicepresidente regionale Fabio Palandri con il trofeo ricordo della giornata Greta Sposito e Mariana Midei i capitani delle due squadre che hanno già confermato la partecipazione all'amatori misto sono riuscite poi a coinvolgere le proprie campagne di squadra in un ultimo set tutto al femminile presente all'evento anche Sara Baldizzone che ha portato il saluto a tutti i partecipanti della direzione della Lega Nazionale Pallavolo WISP e delle squadre del capoluogo Ligure e proprio le formazioni iscritte ai campionati genovesi si scontreranno a fine stagione con le vincente della prima edizione dell'amatori misto Spezzino oltre al calcio quindi in primavera si disputerà la Coppa Liguria WISP di pallavolo prologo della finale nazionale in programma Rimini a fine giugno l'WISP Volley Day ha rappresentato anche l'occasione per vivere un'intensa giornata di sport amatoriale ospiti del Palamariotti davvero uno degli impianti sportivi indoor più belli della regione nelle prossime settimane verrà pubblicato il calendario ufficiale del campionato che in questa sua prima edizione sarà aperto a tutti senza limiti di teseramento a questo punto non resta che attendere il fisco di inizi bella questa immagine finale insomma sì infatti partirei proprio dall'immagine finale poi c'è stato anche un in realtà queste ragazze si sono cimentate su partite di 4 set per giocare e per divertire perché poi è stato fatto un quinto set ma è stato fatto tutti insieme seduti al tavolino a prendere l'aperitivo il concetto era proprio quello di sì queste sono ragazze che hanno una passione incredibile molte di queste per varie ragioni o perché sono diventate mamme o perché per lavoro hanno dovuto abbandonare l'attività agonistica tradizionale però hanno tantissimo passione ci hanno cercato abbiamo cercato di dare anche a loro una risposta e abbiamo cercato di costruire una cosa che potesse almeno poi speriamo di poter fare anche dell'altro stiamo lavorando dell'altro che gli possa dare anche a loro la possibilità di coltivare la loro passione di portare avanti la loro passione senza guardare anche la carta d'identità senza guardare la carta d'identità assolutamente c'è posto per tutti sei da presente amatori misto amatori misto sì perché c'è anche dei ragazzi ci sono anche dei ragazzi che è una formula anche di altre ragioni secondo me sì perché credo che alla pallavolo si presti abbastanza esatto anche secondo me ci sono anche tanti ragazzi che sono per varie ragioni usciti fuori dal circuito diciamo dello sport agonistico tradizionale poi ci sono anche ragazze con un marito con un fidanzato stanno insieme è un altro modo è un altro modo assolutamente voglio dire anche i propri rapporti assolutamente abbiamo parlato del Palamariotti no? tra l'altro Palamariotti è ospitato abbiamo visto un bellissimo impianto peraltro ha recentemente ospitato la supercoppa di basket con la vittoria dell'Arci e Canavetto anche questa è un'altra iniziativa sicuramente interessante da sottolineare sì su questo il comitato il comitato della spezza ha una storia abbastanza importante nel senso che comunque è innanzitutto l'unico comitato che svolge in qualche maniera un campionato di pallacanestro amatoriale in Liguria e ormai c'è da se non ricordo male da 13 anni c'è un'attività consolidata che viene svolta insieme anche comunque anche con il comitato di Carrara perché comunque ci sono alcune squadre approfittando anche dalla vicinanza è un'attività è un'attività consolidata anche diciamo di livello anche discreto però insomma tutto parte dalle stesse ragioni di prima insomma anche qui i ragazzi che escono fuori dal giro cerchiamo insomma di recuperarli e di organizzarli e di portarli a giocare tra l'altro la tradizione senior mi segnalano sì senior anche se però quest'anno abbiamo cercato abbiamo dato stiamo dando vita a un progetto che meditavamo già da tempo che è quello di iniziare una scuola basket per bambini per cui c'è questo corso di mini basket organizzato da WISP a cui insomma partecipano già una trentina di bambini ed è una cosa importante perché credo che la WISP poi deve stare soprattutto anche dentro queste cose ma cerchiamo anche lì di fare una cosa diciamo tendenzialmente un pochino diversa da quello che viene fatto normalmente nel senso diamo veramente poca importanza cerchiamo di dare poca importanza all'aspetto diciamo strettamente agonistico più all'aspetto di carattere educativo e poi stiamo anche cercando di dare anche risposte alle famiglie per quello che riguarda anche la sostenibilità dal punto di vista economico sento Presidente l'economia poi è sempre importante l'economia familiare è quella che poi tocchiamo con mano tutti quanti tutti i giorni bisogna tener conto che oggi veramente una famiglia che ha magari due bambini a cui vuol fare fare attività magari uno qualcuno può avere problemi per cui il dottore gli consiglia di fare attività però poi alla fine sul bilancio delle famiglie può essere un peso non importante e noi stiamo cercando anche di darci da fare anche in questo senso cercando di renderle più accessibili possibili anche dal punto di vista questo è molto importante però magari la crisi insomma la WISP fa dei numeri importanti questo deve essere un segnale recepito che facendo certe cose in una certa maniera sia comunque successo anche un momento difficile assolutamente assolutamente perché viene da sé che quando ci sono dei momenti come questi è anche abbastanza normale che in famiglia è una delle prime cose a cui eventualmente rinuncia assolutamente la prima cosa che si taglia questo è vero Presidente allora intanto martedì ci sarà il prossimo consiglio direttivo regionale parteciperà anche il nuovo presidente nazionale quali indirizzi e cosa dibatterete? beh innanzitutto sicuramente parleremo un po' di queste cose parleremo dalla nostra esperienza in Liguria con lui ci confronteremo con lui con Vincenzo sarà sicuramente un momento per tutti noi per confrontarci e anche per ascoltarlo e per cercare di avere un contributo da lui e Vincenzo questo assolutamente lo conosco bene lo farà senz'altro una devo dire prima parlavo del fatto dell'ambiente ottimo devo dire che nel comitato regionale delle Ligure c'è anche molta umiltà anche quello è una cosa che serve per migliorarsi stiamo cercando di fare del nostro meglio ci abbiamo da migliorare su tante cose e l'incontro col presidente nazionale va anche quello nell'ottica proprio di ulteriore crescita da parte di noi non dimentichiamoci che poi c'è un gruppo dirigente che è molto giovane con dei ragazzi in gambissima secondo me preparati molto giovane che però ha voglia possibilità e voglia di crescere senta l'ultima domanda proprio in un minuto Fabio Palandri ricordiamo vicepresidente regionale di UISP Ligure ma anche presidente del comitato territoriale della Spezia una cosa che vorrebbe fare per primo proprio a Spezia a Spezia una cosa che vorrei fare magari con il presidente ti siano a Spezia che magari ci sta sentendo ma a me ne ho parlato tante volte a me piacerebbe sinceramente ora noi stiamo cominciando a fare questa cosa col mini basket però secondo me sarebbe molto importante costruire una piattaforma dal punto di vista per i bambini una piattaforma dal punto di vista sia motorio che dal punto di vista educativo comune cioè in modo che poi i ragazzi i bambini i ragazzi possano scegliere magari qualche anno dopo quando sono consapevoli se fare una cosa se dedicarsi a una specialità o a un'altra però è fuori di ogni discussione che dal punto di vista educativo e dal punto di vista motorio le basi sono sempre le stesse mi piacerebbe fare una cosa costruire un contenitore un'esperienza che dove è poco tecnica un po' destrutturata da questo punto di vista che poi offre possibilità dopo però molto concentrata sull'aspetto dell'attività motoria di base e sull'educazione e speriamo che tutto questo si possa avverare grazie a Fabio Palandri grazie di essere stato con noi grazie a voi è tutto per queste edizioni di Wisp in forma e naturalmente sport per tutti state con noi grazie a tutti grazie a tutti